L'Università degli Studi di Salerno, con il sostegno del Comune, presenta il corso universitario di primo livello in Cine Turismo 3.0 e Destination Management. È la nuova offerta formativa rivolta ai laureati in discipline umanistiche, economiche e giuridiche che vogliono perfezionarsi nel campo della multimedialità, della promozione del cinema e dei media digitali. Al master, diretto dal professor Francesco Citarella dell'Università di Salerno, si accede mediante un bando di concorso per il quale va presentata domanda entro il 28 febbraio. Copre una figura professionale particolarmente interessante, una parte innovativa anche per il profilo tecnologico che sarà impegnato nelle attività di formazione, che è molto richiesto dal mercato. Cine Turismo è una nicchia che non possiamo affidare all'improvvisazione. C'è uno sforzo che si sta facendo sempre più coordinato per cogliere un momento importante nella nostra città e nella nostra regione. Il fatto che sempre di più i nostri territori vengono scelti come location di produzioni audiovisive di grandissima importanza, ma anche per sperimentare da parte di tanti giovani autori. Quindi un clima molto bello, positivo, quindi investire in professionalità è molto importante perché significa costruire prospettive di lavoro creativo per i nostri giovani. E fare in modo che tra professionalità, talento e sistema produttivo si possa creare un incontro positivo per fare qualcosa di utile e soprattutto per garantire delle chance, delle opportunità ai nostri giovani.